Una roccia e un cammello. Cosa succede al cammello? Serpente, il cammello l'ha visto e ha paura. C'era una volta la bambina che aveva fatto il pupazzo di neve. Poi di notte è uscita, poi ha visto il pupazzo di neve che era ancora lì. C'era una volta una topolina che non si trovava più e poi si incamminava e poi ha trovato la strada. Una volta un mare con quelli dentro di pesci tantissimi. Poi non ci stanno tutti. Sono andate da un lago. Alcuni, non tutti. C'era buono. E dopo era molto il sole ed erano cadute l'eclisi ed erano morte 280 persone. C'era una volta una casa e dei fiori che era pesante. Poi c'era una tempesta e i petali dei fiori erano caduti. C'era un acquaio. C'erano tanti pezzi. Erano colorati. Poi signore ha dato tante... Poi signore quando andava a mangiare è caduta la sottola, le pesci. Poi hanno mangiato tutta la sottola e poi sono dati i sezzoni. Una volta un impapotamo che aveva due amici e giocava sempre con loro. E una volta è uscito dall'acqua e ho trovato sei leoni e una leona e sei leono. L'anno voleva... volevano mangiare. E l'hanno portato. E tutti restavano mangiando. C'erano due coniglietti che si innamorano. E poi hanno completato tanti figli e poi sono innamorati. C'era una volta quattro vermetti che stavano fogando ma un signore veniva a raccoglierli. Ma dopo veniva un verme supereroe. Ha fatto troppo male ma sull'altro occhio ha salvato tre vermetti e l'altro era fogato. C'era una volta un uva e dopo c'è un signore e dopo ha costruito un mercato e dopo è venuta una bambina e voleva lui. C'erano delle case e si sono distrutti con un fulmine. E poi le hanno aggiustate e poi si è diventate più belle. C'era una volta una tempesta che c'era pure una barca e poi un faro che la barca fondò pure il fatto. E si salvò come un salvagente e poi trovarono la strada per arrivare alla loro città. C'era una volta una bambina che prende la bicicletta e poi va a casa. E poi è uscito pure e esce il sole con l'arcobaleno. Ma cosa succede? Giocano. Giocano? Ma un gatto? Un gatto? Un gatto. Puoi dirlo? Vai! Fa una cacca. Fa una cacca. C'era una volta dei signori che facevano una festa. Dopo era arrivata una brutta tempesta e i signori sono scappati in casa. C'era una volta delle città che avevano dei colori belli e poi è stata distrutta. una bambina che è uscita di casa con il suo cane e non si era accorta che l'albero stava per cadere. e dopo è rivenuta a casa e l'ha trovata tutta brutta. c'era una volta un gatto che vuotava. C'era una volta il cucciolo T-Rex usciva il vulcano mentre scappava, poi è cresciuto. Dopo si incontrano, non si conoscono e litigano. Dopo controllano il sesso e gli fanno amicizia e mangiano le galline. C'era una volta due tartarughe, lumache, una era una donna e una era un maschio. La donna era sopra che stava piovendo mentre il suo marito era di già a casa. Stava andando a casa a prendere l'ombrello e lei stava camminando dentro. E mentre camminava, camminava, stava per arrivare. Poi lei decise di muoversi. Andava un po' lenta, un po', via di mezzo, mezzo. Ma lo stesso andava alla pioggia. Poi a cento punto è venuta a casa. Grazie. 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 Grazie.